Mister Capuano, un allenamento congiunto con la sede di Statte, una buona prova del Taranto 12 Reti. Quali sono gli spunti che comunque si riescono a trarre da questa sfida nell'attesa di riprendere il cammino in campionato? La cosa più importante è l'appartenenza al territorio. Noi siamo stati contentissimi di venire a Statte, come ci auguriamo, di andare a giocare a Paolo VI, a un altro rione di Taranto e nelle zone limitrofe, perché questo significa il senso di appartenenza e della tarantinità che deve essere per noi il nostro cavallo di battaglia. Questa è la cosa più importante, l'accoglienza che abbiamo avuto, quindi noi siamo pronti anche a ricevere altri inviti e lo faremo con grande voglia, con grande onore di andare a giocare nelle zone limitrofe quando ci viene chiesto, perché questo significa senso di appartenenza. Quindi voglio ringraziare la società dello Statte, il pubblico che veramente ci ha resi molto felice. Per quanto concerne l'aspetto tecnico abbiamo fatto un buon allenamento, variando più sistemi di gioco, avendo fatto dei carichi di lavoro ieri impressionanti, dovuti anche che lunedì non giochiamo, ho visto la crescita di tanti giocatori che devono ancora arrivare al top della condizione, però pian piano ho visto tante cose positive. Paradossalmente questo stop forzato può essere utile per fare entrare in prima partita qualche altro giocatore, recuperare magari qualche acciaccato o permettere l'inserimento di nuovi arrivati? Questo stop forzato a noi ci distrugge, è inutile prenderci per i fondelli, e lo spiego perché avremmo avuto l'opportunità di giocare in casa e non di fare tre trasferte consecutive, perché noi abbiamo fatto Picerno, poi abbiamo Benevento, poi abbiamo ancora Monterosi, quindi siamo molto seri. Purtroppo a noi non ce ne va bene una, ma saremo anche più forti di tutte queste situazioni. Noi volevamo giocare, questa forza ci ha distrutto sotto tutti i punti di vista, però siccome siamo un gruppo forte, siamo il Taranto, cercheremo di ottemperare anche queste situazioni. Assolutissimamente noi avremmo voluto giocare, per motivo molto semplice. Abbiamo fatto due partite, quattro punti, giochi in casa, riporti il grande pubblico, il nostro più grande alleato e quindi magari si poteva fare risultato e allungare ancora in classifica. Quindi questo stop forzato a noi ci fa un danno mostruoso sotto l'aspetto della continuità del gioco, sotto l'aspetto dell'entusiasmo, però purtroppo va fatto e quindi abbiamo fatto dei carichi diversi per poi poterci trovare pronti a giocare ogni tre giorni. In conclusione possiamo chiudere le polemiche. Pace fatta con Ferrara? Ma io non ho avuto mai nulla con Ferrara, siete voi giornalisti che enfatizzate ogni mia dichiarazione. Ferrara ha fatto un gesto che non va fatto, che magari un altro allenatore poteva sorpassare, siccome io sono capuano ma soprattutto sono allenatore del Taranto. Lei faccia segno che ogni volta che un giocatore esce fa una scena del genere. Non è una brutta cosa, non è una bella cosa, è una brutta cosa. Lui è un giocatore del Taranto, un giocatore importante, un bravo ragazzo, un patrimonio del Taranto, però è normale che non puoi lasciare passare determinate situazioni. Grazie.